Il tabacco, questa pianta demonizzata della quale per oggi ci parlerà in maniera positiva il professor Antonino Zichichiri che è con noi, il professor Antonino Zichichiri laureato alla Bocconi di Milano, specializzato alla Carponi di Carpi e nonché alla Butolonia Montero, professore socioaci, quindi siccome il professor è specializzato come tabacista presso il centro di recupero Valtiberino, ci parlerà di questa pianta che crea dei problemi ma dà tanto lavoro e poi dà un po' di soddisfazione Sì, però devi pensare una cosa, il tabacco fa male, dico le sigarette, fa male, però con il tabacco non ci fanno solamente le sigarette e basta Con il tabacco si fa anche delle medicine polmonarie si chiamano Polmonarie? Non sono sigarette, sono medicine polmonarie, praticamente sono delle sostanze che vanno ai polmoni, anche lui non ha mai fumato Ha questa sostanza, quindi si vuole questa roba così È una medicina speciale, poi questo tabacco qui è un tabacco talmente delicato che è più lavorato questo qui Si chiama il tabacco chittico Chittico? Chittico, praticamente è il tabacco nero, non è il tabacco bianco Chittico? Chittico No Kentucky, chittico 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 Di caso non c'è niente Questo qui è il tabacco che si fa i sigheri, si fa le medicine, si fa, perché questo qui è il lavoro adesso Lo mettono dentro le botti, poi si mettono delle sostanze per via che si mantenga bene E' un tabacco specializzato per fare i sigheri La prima foglia in fondo è per la sola, la seconda è la migliore e la cima è migliore ancora Praticamente viene delle foglie di tabacco molto grosse e molto grandi Speriamo che non vengano grandi perché si ruvina e questo tabacco è un grande peccato Quali sono i parassiti del tabacco? Ah, dopo, questo tabacco qui deve, aspetta, prima di arrivare i parassiti bisogna parlare di un'altra cosa Il tabacco qui deve essere scimato, deve essere dato l'olio, pianta per pianta, per ogni pianta L'olio al tabacco? L'olio al tabacco Se dell'olio a posto bisogna mettere i missili I missili, come i talebani insomma No, come i pomodori a qualsiasi pianta Sì Mettino, è prima di stroncare questi qui e metteci l'olio che così non la mette più Un'intifada del tabacco Sì, un'intifada del tabacco E più dopo c'è la medicina dei tabacchi, i sepidotti che ruvinano le foglie del tabacco Mi fanno venire le macchioline bianche Le macchioline bianche praticamente che in cui questo tabacco non viene più della prima qualità ma viene di terza qualità Si fanno scappare le macchie, le petre e le petre e le petre e le sigarette lì Non ci viene più la sigarette normale Mentre la prima persona si vede le n***e, le n***e e altre sigarette Però bisogna stare attenti a non provocare il fumo passivo Che cos'è il fumo passivo? La gente che fuma vicino ad un'altra persona gli fa uggia Allora quella persona o si vedeva la coglione dei o si vedeva la coglione di noi Ecco, l'ha spiegato in termini scientifici ma speriamo abbiate capito Avete capito sì o no? Grazie professore Grazie